Un obiettivo ambizioso, produrre in Campania il vaccino contro il cancro. La Fondazione Ebris, polo d'eccellenza scientifica internazionale, ha presentato a Salerno i risultati del progetto che hanno portato a un nuovo siero contro il tumore al fegato. Tra le missioni della ricerca Campania Oncoterapie, 23 i partner d'eccellenza, tra cui l'Università di Napoli e Salerno, l'Istituto Tumori Pascale, il CNR e la Fondazione Teleton, l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, una sperimentazione su cui ha puntato fortemente la Regione. Abbiamo fatto un investimento immenso, 120 milioni di euro. Sono stati prodotti risultati importanti. Abbiamo già avuto l'individuazione di geni e di farmaci che impediscono la moltiplicazione di cellule tumorali. Tutto questo è soltanto una prima fase. Per arrivare alla richiesta di registrazione bisogna fare almeno una fase 3, dove praticamente bisogna comparare gruppi di pazienti e quindi andare a verificare l'efficacia clinica di questo vaccino. Questo non è la chiusura di un progetto, ma è la chiusura di un percorso che ha gettato le basi per poi eventualmente vedere sull'atto pratico con trial clinici se questa cosa funziona o meno. A proposito di sanità, il governatore De Luca ha anche affrontato il problema del Cardarelli. Quello che sta accadendo al Cardarelli è esattamente quello che sta succedendo in tutta Italia. La verità è che abbiamo un Ministero della Salute che continua a dormire in piedi perché non ci sono medici per i pronto soccorsi.